Buonasera, buonasera da Onda Tg. In preopiano subito la pagina della Sanità, meno pannoloni, ausilli a rischio nell'ospedale di Sulmone. Il Tribunale per i diritti del malato è pronto ad adire le vie legali, ma noi sentiamo tutto nel nostro servizio. Raffica di disagi in ospedale per la fornitura di ausilli, fra cui pannoloni, dispositivi per diabetici e stomie. A denunciare il caso è il Tribunale per i diritti del malato, che ha raccolto una serie di segnalazioni interne che sono state girate alla Genas, ma se i disagi non cesseranno la responsabile dell'area legale, Katia Puglielli, è pronta ad adire le vie legali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la vicenda che vede protagonista una donna con seri problemi di deambulazione che ha ordinato un numero di 270 pannoloni per un periodo di tre mesi e ne ha ricevuti soli 90, con tutti i problemi che comporta tale disservizio per la dignità e la salute degli utenti. È solo uno dei numerosi casi che abbiamo raccolto. Sembrerebbero problemi di poco conto, ma per chi non ha le forze per girare gli uffici e difendersi con le carte non è così. Interviene l'Avvocato Puglielli, che si è già attivata presso la Genas tramite la mediazione dell'Associazione regionale perché il disservizio sia esaminato e risolto. In caso contrario ricorrerà alle vie legali per tutelare le esigenze e le necessità degli utenti che altro non chiedono se non i propri diritti. Il disservizio riguarderebbe ausilli di ogni genere, il che non è da sottovalutare per un nosocomio che vuole mantenere la sua forza attrattiva. Il Tribunale solo da noi le proposte e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona bacchetta quello di Avezzano. Il nostro servizio. Sarebbe opportuno che i rappresentanti di Avezzano e della Marsica non si fermassero alle sole dichiarazioni di intenti, peraltro ancora non chiaramente esplicitate, sull'unificazione e l'accorporamento dei tribunali di Sulmona e di Avezzano, ma indicassero in maniera puntuale, così come l'Ordine di Sulmona ha provenuto a fare, le soluzioni tecniche ritenute più idonee. A parlare nel day after della Commissione regionale Salva Tribunali è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, Gabriele Tedeschi, che rimette la palla al centro e ripone l'attenzione su un piano prevalentemente tecnico, come aveva fatto il Sindaco Anna Maria Casini, che non si è presentata in Regione. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona si legge in una nota credere overoso di riaffermare il ruolo prevalentemente tecnico della Commissione Tribunali d'Abruzzo. L'Ordine Forenza ricorda che il ruolo della Commissione è quello di fornire alla Regione, quindi al Governo nazionale, le soluzioni tecniche finalizzate alla salvaguardia dei tribunali abruzzesi soppressi e al momento sul tavolo della Commissione c'è soltanto la specifica e articolata soluzione tecnica prospettata da questo ordine sulla base delle ormai note osservazioni del Presidente del Tribunale di Sulmona Giorgio Di Benedetto e del Procuratore della Repubblica di Sulmona Giuseppe Bellelli. Polemiche a parte, per gli Avvocati la battaglia non è politica. La proposta targata di Benedetto Bellelli fa riferimento al collegamento funzionale dei quattro tribunali di Sulmona, Vezzano, Lanciano e Vasto in un'unica area giudiziaria, in cui mantenere la propria autonomia ma con attività coordinate in modo da centrare i parametri di risparmio ed efficienza perseguiti dalla riforma giudiziaria e questa è la proposta tecnica rimessa all'attenzione della Commissione regionale istituita sulla vertenza dei tribunali abruzzesi a rischio. E ora la viabilità ancora con la strada provinciale 12 Frentana, Frentana chiusa, ora si passi alla protesta. Arriva un'altra lettera, questa volta per il Sindaco di Campodigiove e per la Prefettura dell'Aquila. Il nostro paese è condannato, cos'altro dobbiamo aspettare? Perché finora non si è intrapresa alcuna azione legale posta a tutela della nostra comunità? Cosa è stato fatto? Sono tutte domande che continua a porre e a porsi Marco Del Mastro, commerciante di Campodigiove, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per lo sblocco della situazione sulla strada provinciale 12 Frentana, al momento ancora chiusa, ed ora si rivolge direttamente al Sindaco di Campodigiove, Giovanni Di Mascio, e alla Prefettura dell'Aquila tramite posta elettronica certificata. Noi commercianti giustamente siamo chiamati ad adempiere agli obblighi fiscali, quindi al pagamento delle tasse, e ci ritroviamo con l'IVA che tocca ormai il 22%. Mi piacerebbe tanto vivere in un Paese dove la politica si è chiamata altrettanto ad adempiere il compito che gli è stato conferito ai cittadini, ovvero quello della rappresentanza, si legge in un passaggio della lettera di Del Mastro. Il commerciante poi si rivolge direttamente al Sindaco. Per quanto concerne la questione Frentana, quali sono le azioni che come amministrazione avete deciso di compiere? Le propongo di fare una protesta unitaria di cittadini, commercianti e amministratori, tutti insieme per manifestare il disagio al quale è sottoposto il nostro Paese. La missiva è stata girata anche alla Prefettura, ma la competenza di quella strada è della provincia dell'Aquila. E ora la politica scintille fra due consiglieri comunali, ancora attenzione in maggioranza proprio alla vigilia del bilancio. Noi facciamo il punto nel nostro servizio. Doveva essere un incontro chiarificatore in vista del fatidico appuntamento del 2 maggio, quando il Consiglio Comunale si ritroverà tu per tu con il bilancio e il piano triennale delle opere pubbliche, ma il vertice di maggioranza ha convocato il preseduto ieri pomeriggio dal sindaco Anna Maria Casini, si è rivelato tutt'altro che tranquillo. Un summit che ha fatto registrare scaramucce e scintille fra due consiglieri in particolare. Continui richiami di responsabilità hanno sorriscaldato ancora di più il clima in una maggioranza, che numeri a parte fa fatica a trovare serenità e unione di intenti. I due assessori presenti hanno tentato di calmare le acque, ma si arriva al bilancio con parecchi risentimenti, che al momento però non dovrebbero incidere più di tanto sulla votazione in sede di Consiglio. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, la maggioranza è intenzionata comunque ad alzare la mano, unita e compatta, fatta eccezione, del consigliere di alleanza verso il Mona, Mauro Tirabbassi, che ormai è passato dall'altra parte ed ha provocato nei giorni scorsi l'uscita in giunta di Mariella Iommi. Nelle fila della minoranza sicuramente voteranno il PD, come anticipato in un comunicato nei giorni scorsi, ma non si sa se gli altri componenti si accoderanno ai colleghi o si asterranno dal voto. Fatto sta che, conti alla mano, il bilancio dovrebbe essere approvato come pure il piano triennale delle opere pubbliche, anche se in quel caso la maggioranza sarà più risicata, otto voti a sette. Come è accaduto già in Commissione, molto probabilmente si asterranno dal voto i due consiglieri di maggioranza passati ai non iscritti. Il problema sorge a questo punto dopo il bilancio, soprattutto se il Costituendo Gruppo A4, che ha già creato fibrillazioni, si formerà davvero. Civiche per l'Abruzzo prove anche a Sulmona in vista delle prossime elezioni regionali. Ce ne parla nel servizio Domenico Berlingeri. Civiche per l'Abruzzo si presenta a Sulmona. Si tratta della rete composta da 12 liste civiche che si pongono come parte attiva nello scenario politico abruzzese. Presenti rappresentanti di tutte le realtà che hanno dato vita alla nuova formazione, come Daniele Toto di Pescara Liberale. L'esigenza è quella di dare al territorio una risposta importante per quelli che sono i problemi di una regione e che sono comunque irrisolti. Gli obiettivi è dare una rappresentanza a quelle che possono essere le istanze e lo sviluppo di questa regione. Nell'incontro promossa a Sulmona dall'imprenditore Pier Giorgio Schiavo e svoltosi nella grancia dei Celestini è stato illustrato lo scenario della regione che in tutti i settori è precipitata nel baratro da quelli economici a quelli sociali ed occupazionali con tutti i parametri negativi riguardanti il lavoro, la sanità, le attività produttive, l'agricoltura e il turismo. Da qui un'analisi sulle elezioni dello scorso 4 marzo dove secondo Gianluca Zelli di azione politica è emerso che i partiti hanno abbandonato i territori. Le azioni politiche purtroppo le hanno avuto meno che la metà dei deputati e polizietti che avevamo nel 2013. Quindi meno deputati significa meno rappresentatività, quindi significa meno persone che fanno battaglie per questa regione. Quindi questa volta stiamo cercando di farci trovare preparati e quindi stiamo costruendo un sistema di liste civiche, quindi di persone e di entità che sono vicine ai territori. Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex sindaco di Goriano Sicoli Sandro Ciacchi, espressioni in questi anni di Forza Italia secondo cui i partiti finora non sono stati in grado di dare risposte ai territori. Tra i presenti in sala l'ex parlamentare Fabrizio Di Stefano che ha condiviso sia la finalità che lo spirito emerso dall'incontro. Sembrerebbero dunque movimenti civici legati al centrodestra ma civiche per l'Abruzzo trova consensi anche da parte di chi ideologicamente può sembrare in contrasto come l'ex sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio. È vero, ha detto, sono stati in una coalizione dove c'era il PD insieme all'Udc mentre tutte le altre liste erano civiche. Su questo chiaramente io mantengo sempre la mia linea che è una linea equidistante ma nello stesso tempo si avvicina chiaramente a chi sente più il bisogno dei cittadini. Oggi ci sono i civici. L'obiettivo dei prossimi regionali è per dare una proposta politica che possa essere conforme alla necessità dell'Abruzzo di cambiare e di arrivare ad uno sviluppo migliore e a benessere per tutti. E ora l'emergenza abitativa. L'Ater frena sul contratto di quartiere. La consegna non più a giugno ma a settembre. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Da giugno a settembre la consegna degli alloggi del contratto di quartiere non è proprio alle porte come si era preso in precedenza da Palazzo San Francesco. Nell'ultima riunione con la Commissione Ater che si è svolta nella giornata di ieri sono stati rimodulati i tempi dal momento che bisogna attendere un mese dal 30 aprile per gli eventuali ricorsi e poi aspettare ancora il periodo necessario che tutte le pratiche tornino in Regione. Una situazione che non rasserena i 15 assegnatari alle prese con il trasloco ma gli addetti lavori fanno sapere che è necessario completare tutte le procedure. I lavori di costruzione del palazzo sono terminati dopo 15 anni. L'importo di 5 milioni sui 9 totali per sistemare anche verde pubblico e aree urbane di Viale delle Metamorfosi e Viale Sallustio è servito a costituire nell'area libera di Viale delle Metamorfosi da 3.000 metri che sbuca sulla statale nei pressi della palazzina Ater 64 alloggi di ultima generazione a canone concordato cioè da un minimo di 220 euro al mese a un massimo di 340 8 per anziani a piano terra di cui 4 da 64 metri quadri e 4 da 43 con accessi per i diversamente abili 16 per giovani coppie da 63 metri quadri 16 per anziani di cui 4 da 43 metri quadri e 12 da 31 24 per studenti che non hanno risposto. Nel progetto ci sono anche un poneambulatorio una sala ritrovo per anziani e sale studio al terzo piano sarà invece allocata la sede provvisoria della Guardia di Finanza. E ora ci spostiamo a Pratola Peligna il sindaco non sente nessuno sul trasferimento della scuola di piazza indipendenza si va allo scontro con il gruppo consigliare di minoranza Pratola insieme sentiamo nel nostro servizio. Chiediamo a Ladino di aprire un serio confronto sulla sicurezza dei bambini analizzando il nostro progetto che permetterebbe a tutti i nostri figli di avere una scuola sicura lo affermano da gruppo consigliare di Pratola insieme sul trasferimento della scuola dell'infanzia dopo la modifica al PRG passata in consiglio per Pratola insieme è arrivato il momento di dire basta all'assolutismo monarchico se il sindaco non vuole visionare il nostro progetto e sedersi con noi a ragionare sulla sicurezza dei nostri figli allora invitiamo la giunta a dimettere un nuovo avviso per la ricerca di immobili per mettere in sicurezza tutti gli alunni frequentanti l'istituto comprensivo dato che è stato fatto per i bimbi della materna intervengono da Pratola insieme spiegando che località Pratel il traffico giornaliero è stimato intorno agli 8.000 veicoli il costo dell'operazione è di 50.000 euro più IVA che il comune verserà alla società proprietaria dell'immobile trattasi di un cannone di affitto annuale per il momento il periodo è 18-24 mesi solo circa 140 bambini su 500 potranno così godere di una struttura antisismica all'inizio del prossimo anno scolastico qui non si tratta di ripicca elettare da diversi colori politici ma di lavorare per i beni della nostra collettività fanno notare da Pratola insieme convinti che non è giusto che ci siano nel nostro paese ragazze di serie A e ragazze di serie B sindaco ci dia 10 minuti del suo prezioso tempo ci ascolti magari riuscirebbe davvero a mettere in sicurezza le scuole nei famosi 10 minuti che ha promesso non faccia finta di nulla e abbandoni la strada dell'assolutismo monarchico in democrazia bisogna avere l'umiltà di ascoltare tutti soprattutto quando si discute di temi così importanti che hanno a che fare con la sicurezza dei nostri figli concludono dal gruppo di opposizione rivolgendosi al sindaco Antonella di Nino Assoluto arriva la sede di Codici Abruzzo un centro per i diritti del cittadino stamane c'è stato il taglio del nastro il nostro servizio garantire un servizio alla collettività locale più in generale della provincia dell'Aquila muove in questa direzione la sede dell'associazione Codici Abruzzo centro per i diritti del cittadino che ha aperto i battenti Largo Palizia Sulmona all'inaugurazione è intervenuto il segretario regionale Giovanni D'Andrea abbiamo scelto Sulmona diremmo per motivi di ordine storico e geografico Sulmona è al centro dell'Abruzzo è a un bacino di utenza di tutto rispetto e poi è una zona che in questi ultimi tempi dal punto di vista economico e sociale appare particolarmente depressa rispetto al resto dell'Abruzzo quindi vogliamo costituire qui una sendinella a difesa della legalità e a difesa dei cittadini che sendono purtroppo tutti i giorni i loro diritti lesi e quindi sarà nostra premura difendere i diritti della Costituzione e difendere i diritti del cittadino e attraverso i nostri avvocati cercheremo di fare del nostro meglio per tutelare e sangiere i diritti della Costituzione Il pool dei legali è composto da Chiara Sfera che si occuperà di materia civile così come Valentina di Benedetto che avrà inoltre competenze su questioni penali mentre Chiara Majorano tratterà i casi riguardanti gli immigrati La responsabile della sede Giuditta Leone ha spiegato che il codice Abruzzo opererà in tutti i settori ci stiamo allargando veramente sotto ogni punto di vista abbiamo dall'immigrazione agli animali stiamo cercando di inserire qualcosa verso gli anziani la sanità ovviamente l'ambiente tutto quello che può che può essere ci sarà e ci stiamo adattando e aggiustando anche con qualche novità ovvero magari un servizio di psicologo di psicologia e probabilmente anche un commercialista che possa dare una mano per chiunque apre un'attività per consigli per qualsiasi cosa Presenti all'inaugurazione la senatrice del Moimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo e il consigliere regionale Domenico Pettinari che si sono complimentati per l'iniziativa che rappresenta uno strumento in più per difendere i diritti dei cittadini Oggi è il giorno delle nuove associazioni che sono nate è nata anche terza pagina sentiamo di cosa si tratta Andare oltre la cronaca alle solite notizie per un approfondimento di taglio culturale è così che nasce l'associazione culturale terza pagina presieduta dalla giornalista e collega Chiara Buccini Vogliamo sapere di cosa si occuperà questa associazione come è nata perché è nata La nuova associazione terza pagina che io presiedo con grande onore e onere si occuperà di cultura editoria in parte anche di giornalismo vogliamo essere una voce culturale all'interno di questo panorama cittadino e pelinio così già ricco di associazioni vogliamo essere una voce da terza pagina da cultura insomma Terza pagina non prima seconda ma diciamo dall'idea di quell'approfondimento che tutti cercano al di là della cronaca al di là delle notizie certo è la terza pagina la pagina di cultura è la pagina dell'approfondimento è la pagina noi vogliamo far pensare vogliamo far riflettere vogliamo far pensare allora c'è già un primo appuntamento in calendario per lunedì 30 aprile all'ora 18 nella sede della caverata musicale sumonese quando verrà presentato questo testo di Francesca Casamassima immagini delle metamorfose di Giovanni Andrea dell'anguillara ecco che cosa c'è di nuovo anche di particolare allora innanzitutto questo è un libro che sarà presentato in anteprima nazionale qui a Sulmona la Francesca Casamassima è una ricercatrice dell'Università degli Studi di Macerata dove insieme al professor Giuseppe Capriotti si sta conducendo uno studio proprio della fortuna di Ovidio e in particolare delle metamorfosi di Ovidio nell'arte la Francesca Casamassima si è soffermata proprio sulla rappresentazione delle metamorfosi tradotte da Giovanni Andrea dell'anguillara e ci porterà appunto questo suo studio pubblicato dall'Università Giovanni Andrea dell'anguillara è stato il traduttore di Ovidio più famoso lasciami passare il termine del 1500 infatti qui sarà proprio l'edizione del 1563 1584 ci si soffermerà su quelle edizioni e intanto al Teatro Caniglia è riuscita la serata che ha omaggiato i Beatles una serata che è stata anche all'insegna della solidarità noi abbiamo intervistato Vincenzo bisestile presidente dell'associazione Nomadi Fanglab questo canale è chiamato il nostro canale è il nostro canale E' stata una bellissima serata, molto accesa, intensa, il pubblico e il gruppo ha partecipato tantissimo, è stato sempre più esaltante. C'è stata una serata a livello straordinario, io non me l'aspettavo che erano così bravi, veramente bravi e poi abbiamo fatto una bella operazione tutti insieme col pubblico di Sulmona ma anche da fuori Sulmona, Abruzzo, Lazio, Marche, perfino dalla Svizzera sono arrivati quattro persone e quindi siamo contenti che oggi sono venuti a Sulmona delle persone che magari non conoscevano neanche la città. La cosa più bella è quello che riusciamo a fare per la fondazione ISAL, la terapia del dolore cronico, che è un mare che speriamo che riusciamo tutti insieme a sconviggere. Sicuramente faremo anche una bella donazione con il prossimo concerto che faremo poi a Pescara, con la premiata forniremo azione, concluderemo questa cosa per la fondazione ISAL. La serata è emozionante con un pubblico, devo dire non ce l'aspettavamo, veramente psichedelico, un pubblico meraviglioso che ci ha accompagnato per tutta la sera con grande entusiasmo, è stato veramente bello. Grazie Sulmona. Sulmona in festa per il suo padrono San Panfilo, padrono della città di Sulmona, della diocese di Sulmona Valva, ma vediamo chi porta oggi il nome di Panfilo e se i nuovi nascituri hanno ancora questo nome nella nostra raccolta di opinioni. Panfilo torni nella nagrafe di Palazzo San Francesco. Ognuno oggi ha nominato il santo padrono, sta nelle cose, ma quanti dei nuovi nascituri portano il nome di Panfilo? L'argomento è stato al centro della nostra raccolta di opinioni. Ho degli amici che si chiamano così, dall'etimologia, amico di tutti, è un periodo un po' difficile per asserire un nome, una nominata del genere al proprio figlio. Sì, al mio figlio sì, se mi nasce un figlio sì, Panfilo sì. Ma io invece sapevo il contrario, perché comunque stava scomparendo Ovidio, cioè il pubblico Ovidio Senaso è meno oggettonato rispetto a San Panfilo. Comunque dicono che stia scomparendo San Panfilo, ma io mi auguro che torni anche Ovidio Nasone però. Allora, sicuramente è un nome molto locale, mi è capitato di andare fuori, fare questo nome, molte persone non l'avevano mai sentito, quindi è prettamente locale. E sinceramente, sono sincera, non è un nome che metterei, perché metterei un nome, a me piacciono i nomi molto più brevi, però sicuramente fa parte della nostra tradizione che qualcuno lo continui, è bello. Beh sì, certamente, mi sembra che sia un bel nome, poi è un nome che è molto legato a questa città, quindi anche per senso di appartenenza, essendo il nome del patrono, credo che sia, come dire, non paradossale, anzi sarebbe da invitare, facciamo un appello, a chi dovesse avere un figlio maschio di mettere il nome Panfilo. Chi chiamava Panfilo? Mio nonno materno. Metterebbe questo nome un neonato di oggi? Beh, alla fine non è poi così male, anche se magari in altre regioni d'Italia pensano allo yacht, non lo conoscono questo. Lei che dice signora? Beh, a me il nome Panfilo piace. Io sì. Non vedo perché no. Di Sosa, invece lei lo metterebbe? Certo che lo metterei. Non riesce a fare figlia, allora. Ebbene, giustamente, ma lei però è un bel nome. Sì, a chi piace sì, perché non è mica detto che piaccia a tutti. Forse per quello non viene messo, sono nomi vecchi, nomi antichi, che naturalmente oggi come oggi i ragazzi si sentono a disagio con nomi di quel genere lì. Lei lo metterebbe questo nome magari a un nipote? La penso esattamente come mio marito, anche perché il padre di lui aveva un nome ben peggiore, Agapito. Signora, lei, insomma, questi nomi li conosce? Panfilo? Che ne dice? Penso di sì, prima si metteva. Ma io sì, perché ha un suo che? È fascinoso, Panfilo. Lei lo metterebbe Panfilo come nome? Perché no? Non importa niente a me. Se mi piace lo mette, se no non lo metta. Certo, un bel nome. Oggi pure San Panfilo. Io ho mio fratello che si chiama Panfilo. Quindi sì, è un bel nome. Storico. Assolutamente sì, secondo me ci sono problemi. Perché no? Sì, perché no? Folla e preghiera invece nella processione di San Panfilo che poco fa è rientrata nella Basilica Cattedrale. Vediamo tutto nel nostro servizio. Centinaia di fedeli stanno prendendo parte a questa serata del 28 aprile, il giorno della festa di San Panfilo, il patrono della città di Sulmona, dell'intera diocesi di Sulmona Valva, con il momento clou del corteo processionale che ha preso le mosse dalla Basilica Cattedrale di San Panfilo, il busto del santo che spesso resta rinchiuso nel silenzio della sua nicchia in Cattedrale, ora passa per le piazze, per le strade, per i quartieri della città. Un momento per puntare di nuovo l'accento, per buttare gli occhi su questa figura tanto cara ai Sulmonesi. Una festa, l'abbiamo detto, negli ultimi anni, caduta un po' nel dimenticatoio, ma questo trasporto interiore anche oggi si fa sentire. Il corteo processionale è stato aperto dalla banda dentro d'acqua, seguire dai lampioni portati dai confratelli dell'arci confraternita della Santissima Trinità e della confraternia di Santa Maria di Loreto. La processione ha segnato anche l'esordio del vescovo di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco, accompagnato dai canonici e dai sacerdoti della città e della diocesi. La folla si è assepata in ogni angolo della città. Ed ora l'atteso momento della buona notizia del giorno. La parrocchia della Basilica Cattedrale di San Panfilo offre il pranzo agli indigenti della mensa della Caritas Diocesana di Summona Valva. Il gesto solidale, divenuto ormai una tradizione nell'ambito della festa del Santo Patrono, si ripete anche oggi, in occasione della festa di San Panfilo, padrono della città di Sulmona e dell'intera diocesi di Summona Valva. L'usanza risale ai tempi del comitato festa, che pensò di rendere partecipi anche i poveri della ricorrenza di San Panfilo, un vescovo che in quanto a carità e solidarietà ha dato l'esempio. Un rituale che è stato ripreso da parroco emerito Don Maurizio Buzzelli e ora viene portato avanti da Don Domenico Villani. Anche quest'anno offriremo il pranzo agli ospiti della mensa Caritas. Intendiamo portare avanti questa tradizione, intervenuti i sacerdoti a Onda Tg. Ogni giorno, festività comprese, non sono poche le persone che si mettono in fila nella mensa Caritas della diocesi di Summona Valva per richiedere un pasto caldo. Su per giù sono una trentina uomini e donne costretti a bussare alle porte dell'edificio di Via Porta Romana, sette giorni su sette, dalle 12.30 alle 13.00. Fra non molto sarà pronta anche Casa Zaccheo, un'opera segno che scaturisce la giubileo della misericordia e che presto verrà alla luce. E ora la pagina sportiva che apriamo con il calcio. Vediamo quali sono tutti gli impegni delle squadre peligne previste per domani. Domenico Berlingeri. Nella penultima giornata del campionato di Serie D, Nero Stellati sfideranno i molisani dell'Olimpia agnonese nel match che metterà di fronte le squadre, espressione dei comuni più piccoli tra tutti quelli rappresentati dalle società dell'intero gironefe. Dopo l'aritmetica retrocessione in eccellenza, i Nero Stellati cercheranno di fare risultato nella loro ultima gara casalinga al Pallozzi di una stagione tormentata e avara di soddisfazione per i peligni che domani saranno privi dello squalificato Pupischi. Ancora una volta il tecnico di Corcia chiedere ai suoi di dare il massimo, almeno per cercare di evitare quell'ultimo posto, dal quale i Nero Stellati non si sono mai mossi dall'inizio di questo campionato, che volge ormai al termine. Per fare risultato, i peligni dovranno battagliare non poco, considerando anche l'obiettivo dell'Olimpia agnonese, distante appena un paio di punti dalla dodicesima posizione, sinonimo di salvezza diretta. Nell'ultimo turno del girone B del campionato di promozione, attenzioni puntate sul Raiano, che al Cipriani deve battere la Casolana per ottenere la salvezza. La Virtus Pratola, che riceverà il Real Treciminiere, è già destinata ai play-out, ma dovrà ottenere il successo per concludere in terz'ultima posizione. Gara senza ambizioni per il Sulmona, che affronterà in trasferta il già retrocesso Palombaro. Penultima giornata nel girone C di prima categoria, il Bugnara, lanciato verso i play-off, si appresta la trasferta contro il Villamagna, con l'intento di riportare a casa punti per consolidare la quarta posizione. Alle spalle il Popoli cerca punti in casa contro il Giuliano Teatino, per sperare di rientrare nei play-off, nonostante i 13 punti di differenza rispetto alla seconda posizione. Il Pacentro riceverà la capolista Scafa, in coda la Moronese, proverà ad ottenere la seconda vittoria consecutiva contro il Fanalino di Coda Pescina per difendere il terz'ultimo posto in chiave play-out. Nel girone B di seconda categoria, trasferta dell'Ovidiana contro il Deportivo Luco, i Sulmonesi, pur vincendo, non riuscirebbero a rientrare nei play-off, in quanto, in considerazione dello scontro diretto tra Marruvium e Plus Ultra, non potrà esserci un distacco inferiore ai 10 punti rispetto alla seconda posizione. E ora parliamo di basket con il Sulmona Under-18 che è sconfitto per un solo punto. Pensate nella gara play-off contro la Virtus. Monte Silvano. E' andata male alla squadra Under-18 del Sulmona Basket 1956 la gara 1 dei quarti di finale dei play-off del campionato CSI. I ragazzi di coach Mario Pedrilli sono usciti sconfitti per un solo punto dalla Virtus. Monte Silvano che si è imposta per 62-61. E' stato un epilogo amaro per i Peligni, puniti da due tiri liberi messi a segno a tempo scaduto dagli Adriatici. Un finale dunque sfortunato per il Sulmona che in precedenza aveva condotto la partita avanti nel punteggio dall'inizio sino al termine, arrivando a raggiungere anche 18 punti di vantaggio. C'è amarezza per il risultato ma ciò non toglie l'ottima prestazione della formazione sulmonese che adesso mercoledì 2 maggio cercherà di pareggiare il conto a Monte Silvano in gara 2. In caso di vittoria dei Biancorossi sarà necessaria la gara 3 per accedere alla semifinale che si disputerebbe a Sulmona. Vediamo invece che cosa è successo all'altra società di basket. Il basket Centro Abruzzo di Sulmona sta partecipando ad Alba in Piemonte nella provincia di Cuneo al primo torneo nazionale mini basket in Langa riservato alla categoria esordienti organizzato dalla locale società dell'Olimpo Basket Alba. All'evento cominciato oggi ci sono 15 squadre provenienti da tutta Italia. I sulmonesi, 12 ragazzi accompagnati dai tecnici Loredana La Civita e Sandro Raida sono stati inseriti nel girone insieme a Pavia, Tortona, Bea Chieri e BRA. Oltre allo sport i ragazzi del basket Centro Abruzzo potranno vivere fantastiche giornate all'insegna del divertimento e dell'aggregazione in quanto insieme ai coetanei di Vicenza e Bologna vengono ospitati dalle famiglie dei giovani dell'Olimpo Basket Alba e dell'Abet BRA. I promotori della manifestazione hanno inoltre organizzato per tutti gli ospiti visite alle cantine del territorio albenze. Il torneo si concluderà il primo maggio. E chiudiamo la settimana come al solito con lo dico al TG, curiosità, domande, segnalazioni sulle notizie del giorno e non solo. Ovviamente questa edizione come vediamo sulla nostra pagina Facebook dove andiamo in diretta live anche lì con onda TG all'insegna della festa del Santo Patrono. Sono tanti messaggi, gli auguri ai Panfilo, all'onomastico è piaciuto questa raccolta di opinioni. Fuoco d'artificio della festa di San Panfilo terminato non male. Ecco alcuni commenti che sono arrivati pochi minuti fa. Che bello, fuoco d'artificio per il Santo Patrono, viva San Panfilo. Ci scrive un'altra affezionata telespettatrice mentre un imprenditore ci dice bellissima iniziativa per combattere dolore cronico, si riferisce a quello che è accaduto qualche giorno fa al teatro. E poi un commento anche sul tribunale ma anche sul contratto di quartiere. Devono rifare giardino alla palazzina Ater, nuova così è orrendo, alberi secchi, abeti bruciati dal sole dell'anno scorso, erba altissima, presentarli così ai residenti è quanto meno vergognoso, ci scrive una telespettatura. Bene, continuate quindi a seguirci anche sui social. È davvero tutto per questa edizione, Onda TG torna lunedì. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti voi lascio la buona serata e buona domenica.